Hai voluto la bicicletta? E mo? A decidere se Verona dovesse o meno salire in sella ci ha pensato la magistratura. Si era già espresso a maggio, ora in via definitiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia d'impresa, ha deciso di dare il via libera alla manifestazione Cosmo Bike Show, in programma per la sua prima edizione dall'11 al 14 settembre nei padiglioni della Fiera di Verona. Il reclamo, presentato da Padova Fiere, non ha fatto cambiare idea ai giudici, che due mesi fa avevano detto no alla richiesta dell'ente fieristico e uganeo di sospendere la gemella veronese dell'evento Expo Bici, che tra l'altro è in programma solo una settimana dopo. Padova Fiere aveva parlato di scippo, nonché di accesso abusivo ad un sistema informativo e rivelazione di segreto professionale da parte del proprio ex amministratore delegato. Sulla vicenda il pubblico ministero aveva aperto un'inchiesta. A fine gennaio le perquisizioni e il sequestro di materiali informatici nell'abitazione e negli uffici delle persone indagate. Secondo i giudici, però, non ci sarebbe stata alcuna concorrenza sleale.